Dua Lipa e Asensio notte insieme dopo la vittoria del Real Madrid in Champions League Dua Lipa e Asensio stanno insieme. Secondo la CNN Turca sì. O meglio, pare che la cantante e il calciatore abbiano passato una notte bollente insieme E non una notte qualsiasi, bensì la finale di Champions League che si è tenuta a chi in Ucraina L'artista inglese di origini albanese ha cantato prima del match tra il Real Madrid, e il Liverpool, e subito dopo la vittoria della formazione spagnola si sarebbe incontrata in gran segreto con il centrocampista di Palma di Mallorca Al momento non si hanno ulteriori dettagli e i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito Che i due siano i nuovi Shakira e Epico è un punto di domanda, punto gli amori di Dua Lipa prima di Asensio, punto Dua Lipa, trattino d'Ognuno 23 anni, ha avuto fino ad oggi un solo grande amore, quello per il modello e che Fisa è carico I giornali di gossip inglesi hanno parlato in passato di Firt Mai confermati, con Calvina Harris e Chris Martin Vita privata di Asensio del Real Madrid, punto Marco Asensio è single dallo scorso dicembre, da quando è finita la lunga relazione con la modella e studentessa di educazione Marina Montane .